ciao a tutti amici ballerini sono petro nella calcio oggi vi spiegherò il vi farò il tutorial della coreografia a mani in alto di elettra lamborghini partiamo con la parte a intanto mio ciccio non può mancare partiamo di piede destro parte a mambo di destra avanti mambo sinistro indietro apertura di piede destro apertura sinistro destro avanti sinistro chiude cia cia di destra sinistro indietro destro chiude cia cia di sinistro e si ripete per ben due volte col conteggio 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 e 4 5 6 7 8 parte b giro di un quarto apro di destro chiudo sinistro cia cia di destra 5 6 7 4 body roll dandoci la spinta col piede sinistro giriamo di mezzo qui sempre partiamo di destro apro destro chiudo sinistro cia cia di destra sempre sinistra che spinge 5 6 7 8 arriviamo frontale frontale qui parte il ritornello che vi ultima parte destra sinistro e destra avanti scusate destra avanti sinistro avanti cia cia di destro sinistro indietro destro sinistro cia cia indietro di sinistro incrocio di destro sposto indietro il piede sinistro e cia cia di piede sinistro incrocio di scusate di piede destro incrocio sinistro indietro destro cia cia di sinistro ripeto 1 2 3 e 4 5 6 7 8 1 2 3 e 4 5 6 6 e 8 adesso il ritornello ricordate che io lavorerò adesso ricordate che io lavorerò adesso a specchio quindi quello che io faccio col mio braccio sinistro voi lo fate col destro ok è 1 2 3 e 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 mi giro anche di spalle per capire meglio il movimento dei piedi questa volta 1 2 3 e 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Buon ballo! Elettro Lamborghini, mani in alto, coreografia Petronella Calcio. Ciao!